È venuto a Crotone per questa visita, lei è stato a Crotone quindi conosce la nostra realtà, è venuto a Crotone per questa tragedia? Siamo venuti insieme a una delegazione del nostro sindacato a portare il nostro cordoglio, la nostra vicinanza alle vittime, ai familiari delle vittime. Mostriamo in queste circostanze il nostro volto umano, un volto umano che esce fuori in questa tragedia, un volto umano che noi dimostriamo e mostriamo in ogni momento della nostra professione anche quando non si vede. Questo momento era doveroso da parte nostra venire a portare un fiore ai bambini e ai familiari dei bambini che purtroppo ci hanno lasciato sul nostro mare, sulle nostre coste. Si mette da parte quello che è lo spirito di lavoro e quindi l'impegno nella polizia e si diventa uomini comuni? No, noi siamo uomini comuni, non siamo supereroi, siamo uomini fatti di sentimenti, siamo uomini fatti da emozioni come tutte le altre persone. I nostri colleghi sono stati esemplari in questi momenti tragici a prestare il loro soccorso nonostante i momenti di non preparazione, nonostante i momenti di tragicità che si affrontavano giorno dopo giorno. Abbiamo mostrato ancora una volta la funzionalità dello Stato in questi momenti dove lo Stato purtroppo anche quando non è preparato esce fuori il meglio di sé. E qual è il meglio di sé? Il meglio di sé è prestare servizio per le istituzioni, il meglio di sé è prestare il servizio per i cittadini e per i cittadini in difficoltà. Purtroppo non vorremmo mai che si presentassero scene del genere dinanzi ai nostri occhi. Osservatore razionale migrazione, quindi significa che lei ha un'idea di che cosa sono questi viaggi della speranza e soprattutto di quanto sia necessario un intervento diverso nei loro confronti. Sì, diciamo che la Calabria è il centro del Mediterraneo. I flussi migratori qui da noi che arrivano particolarmente da Est interessano le nostre coste quasi quotidianamente, inoltre negarlo. C'è a Monte una problematica a livello internazionale, va affrontata a livello europeo. Le normative sono sempre, come dire, arrivano sempre un giorno dopo purtroppo rispetto a fatti gravi come quello che è accaduto in questi giorni. Si parla che dal 27 di marzo sarà aperto un nuovo corridoio umanitario per le persone che partono dalla propria terra in momenti di disperazione. Però questi viaggi della speranza ormai sono diventati viaggi terribili di morte e quindi situazioni che dovrebbero essere gestite diversamente anche dall'Europa. Ma benvengono i corridoi umanitari, sono gestiti dalle istituzioni, conseguentemente chi arriva qui viene in linea di massima già una priorità per quanto riguarda il crocemento dello status rifugiato. Benvengono assolutamente, a livello nazionale e a livello internazionale. Benvengono assolutamente, a livello internazionale.